Ciao ragazzi, due parole nel volo sul primo film di Hit, adesso nelle sale abbiamo praticamente il secondo e io ho recuperato il primo soltanto ieri e niente, volevo dirvi un po' la mia su questo primo film per poi dirvi prossimamente il mio parere sul secondo allora che dire, partiamo dal fatto che sia un horror, ecco, è un horror che non è tanto horror, nel senso che a me personalmente non ha fatto molta paura io devo dire che sono una persona che con gli horror si spaventa anche abbastanza facilmente, non è che ci vuole tantissimo per farmi cagare addosso i jumpscare sono sempre stato il mio punto debole, tanto per dirvi, e devo dire che non mi ha fatto molta paura anche perché dopo un po', cioè, abbastanza, dopo i primi minuti del film, riesci a capire, ad aspettarti, insomma, il film dove vuoi andare a parare per quanto riguarda gli spaventi perché di quello sto parlando, e quindi niente, alla fine poi dopo un po' non è che ti spaventi più di tanto perché, cioè, effettivamente quello che vogliono realizzare per farti cagare addosso sai, lo sai dove voglio andare a parare a un certo punto, quindi un po' debole forse da questo punto di vista è iniziato poiché era abbastanza crudo, nel senso che vediamo sto bambino che, insomma, gli strappa nel braccio quindi, non lo so, da lì mi aspettavo una cosa anche un po' più forte poi, non lo so, pian piano non è che hanno fatto tutte queste gran cose e nel complesso, non lo so, un film abbastanza mediocre, un film molto, ma molto commerciale mi aspettavo una cosa un po' più, diciamo, seria, tra virgolette nel senso che mi aspettavo un horror un po' più potente soprattutto dal lato horror, perché io alla fine in un horror non è che voglio la trama della Madonna perché anche la trama, voglio dire, non è niente di impressionante però, sai, è un horror alla fine da un horror ti aspetti sempre quella cosa che ti fa un po' paura quella cosa un po' strana da vedere e in sto film queste cose non le ho viste mi è sembrato il classico film horror che ormai fanno in questi anni la classica robaccia, diciamo e adesso c'è il secondo capitolo è sicuramente un film che incassa tanto è sicuramente un film che c'ha un po' un marchio, no? perché questa cosa del clown va molto di moda con It soprattutto, cioè va proprio per la grande e quindi vedremo il secondo capitolo ma aspettative stavolta le abbassiamo un pochino perché il primo film non mi ha detto niente non mi ha detto niente di particolare me lo sono visto alla fine me lo sono visto, non dico con tanto piacere però ero partito con aspettative molto positive poi pian piano il film va un po' scemando devo dire che le due ore, perché il film dura due ore ci sono dei tratti in cui un po' pesanti, un po' lento però voglio dire nel complesso come vi ho già detto un film un po' mediocre, horror, poco horror e niente, speriamo che il secondo capitolo riesca a fare meglio su questo punto di vista niente, voi fatemi sapere la vostra e poi ci sentiremo successivamente anche sul secondo capitolo che non so quando vedrò ma ne parleremo ciao a tutti iscrivetevi al canale seguitemi su mix, su twitch e sempre le stesse cose ragazzi ormai lo sapete ciao a tutti ciao a tutti